Si prospetta caldissima la pausa estiva dell'Amici del Volley. Settimana scorsa si è conclusa la lunghissima fase dei play-off che ha di fatto chiuso ufficialmente la stagione 2016-2017. Bilancio in chiaroscuro per le ragazze già resiche, pur mantenendo la scia delle squadre messinesi e piazzandosi terza ad un solo punto della team volley messina, non c'entrano nel secondo posto, obiettivo minimo stagionale che avrebbe comunque garantito la possibilità di giocarsi la fase dei play-off. Tanti gli spunti di riflessione da porsi per la dirigenza della squadra di volley femminile gerrese, a partire dalla panchina di Claudio Mantaro. Confermarlo per dare continuità al progetto o approfittare della pausa per cambiarlo? Il tecnico ha lavorato soprattutto sull'aspetto individuale delle giocatrici, riducendo al minimo i loro punti deboli, ma questo non è bastato. Manovre di gioco lente in alcuni frangenti e poche soluzioni offensive sono costati punti lungo il tragitto. Seconda riflessione da fare è quali giocatrici confermare e quali no. Pilastri inamovibili il duo Barone e Beninato, che con i loro 30-45 punti di media partita, sono incedibili. Da riconfermare Valentina Leone, devastante quest'anno sotto rete. Decisamente al di sotto delle aspettative, invece, Sara Casale, che, chiamata dal club ionico per fare la differenza, tra alti e bassi, non ha performato secondo le aspettative desiderate. Forti perplessità anche per il libero La Ferrera, che in certi frangenti del campionato non ha dato sicurezza al reparto arretrato. Due le strade possibili per la questione libero. Una strada conduce al mercato estivo. L'altra è una soluzione interna, ovvero impiegare in quella posizione Erika Privitera, che, quando è stata chiamata a ricoprire quel ruolo, non ha affatto sfigurato. Come si suole dire, i nodi sono arrivati al pettine e nelle prossime settimane si inizierà a lavorare per la nuova Amici del Volley, formato 2017-2018.